Sempre più furti all'Aquila all'interno dei centri commerciali e dei supermercati, così Confcommercio Imprese lancia l'allarme e invia una lettera al prefetto per sollecitare un incontro con le forze dell'ordine e del territorio. A scrivere è il presidente provinciale di Fida Confcommercio Angelo Liberati a nome di tutti. Nelle ultime settimane si sono susseguiti vari furti e danni di supermercati, gallerie e centri commerciali aquilani, in alcuni casi anche borseggi con destrezza. A metterli a segno sono bande organizzate. Ci troviamo incontro veramente gruppi di delinquenti organizzati che vengono, come abbiamo visto noi con la collaborazione delle forze dell'ordine, da fuori provincia, di fuori regione. Siamo in collegamento, ci siamo organizzati, oltre alla videosorveglianza di Borsa Nostra, ma ci siamo organizzati tra di noi con gruppi e ci siamo messi in rete. Ogni qualvolta accadono questi fenomeni, in tempo reale riusciamo a trasmetterli alle forze dell'ordine. Però dobbiamo combattere e vedere se la prevenzione che ci può essere, da parte di sua eccellenza il prefetto, insieme a tutte le forze dell'ordine, perché riusciamo così a reprimere in anticipo quello che non vorremmo né per noi né per gli aquilani stessi e nemmeno degli stessi abruzzesi. Gli operatori del settore del capoluogo e dell'intera provincia sono stremati e anche preoccupati dal dilagare del fenomeno, che sta mettendo a dura prova il loro lavoro e la tenuta economica delle loro aziende. Furti fatti a volte in pieno giorno, borseggi anche violenti. Nell'ultimo in ordine di tempo i malviventi sono riusciti persino a tagliare la griglia che contiene champagne e vini pregiati. I furti sono cambiati, sono cambiate le modalità e anche l'identikit di chi li compie. Approfittano dell'afflusso di gente nei momenti di orario dove c'è più affluenza e arrivano ad effettuare borseggi, furti di ultimo che vi dico sono riusciti addirittura in pieno giorno a tagliare la griglia che conserva champagne, conserva liquori e vini costosi.